Sull'ospedale Landolfi di Solufra, alle polemiche e alle proteste di piazza, il governatore della campagna risponde a modo suo. Vincenzo De Luca elenca cifre e date di gare e lavori relativi all'ospedale Landolfi. Così come ci siamo impegnati a fare, così come faremo, ha detto nella consueta diretta social, ribadendo che nei prossimi giorni sarà approvato il nuovo atto aziendale con le nuove destinazioni che sono state decise. Praticamente non si indietreggia di un millimetro, si va avanti lungo la strada segnata dalla delibera 201, approvata dall'Aggiunta regionale il 19 maggio. La manifestazione di protesta giovedì a Solufra non ha toccato minimamente il governatore. De Luca non torna indietro, mentre il sindaco di Avellino ribadisce che la chiusura del pronto soccorso di Solufra è una follia pura. Festa con i legali del comune, sta ragionando per costituiste al fianco del comune di Solufra, in merito al ricorso presentato al Tarra dal collega Vignola. E' follia pura, solo ipotizzare la chiusura di quel presidio sanitario. Bene ha fatto Vignola ad impugnare l'atto, noi stiamo ragionando con il nostro ufficio legale per costituirci al fianco del comune di Solufra, perché certamente è una battaglia che riguarda le nostre comunità, però a questo punto c'è bisogno anche di un intervento che se non è politico regionale deve essere del Tribunale. Andrà anche lei all'incontro settimana prossima con il Ministro Speranza? Assolutamente sì, credo che sia fondamentale far sentire tutte le voci dei rappresentanti del territorio ai livelli istituzionali più alti. Bene ha fatto l'onorevole Petitto di concerto con l'onorevole De Caro a organizzare questo incontro. Ci saremo io, il sindaco di Solufra e anche il sindaco di Riano, perché anche il secondo centro, il più grande di Irpinia, che ospita un ospedale importante come quello di Ariano, ha bisogno di far sentire le proprie ragioni.